Non è una festa di matrimonio come un'altra, quella che si è celebrata fra Terchi e Cadicia. Lo sposo è il primo genito della famiglia al Zaidan, la prima giunta a Salerna con i corridoi umanitari nel dicembre del 2016, grazie ad un protocollo d'intesa siglata dalla comunità di di Sant'Egidio, lo stesso protocollo che ha permesso che arrivasse Cadicia accolta insieme ad altre 96 persone all'aeroporto di Fumicinio a Roma. Finalmente potevano mostrare un sorriso sereno, due giorni dopo il loro arrivo, il matrimonio e poi la festa che è stata organizzata negli spazi dall'associazione Paidea. Alla festa ha partecipato anche la nuova giovane famiglia siriana con due bimbi che era arrivata insieme a Cadicia, famiglia che è stata accolta a Baronissi nella casa delle rondini, messa a disposizione da un privato. Un nuovo inizio per tutti, possibile grazie ai corridoi umanitari che offrono a queste persone la possibilità di costruire un futuro felice e dignitoso nel nostro paese. Un percorso reso possibile anche da Salerno, grazie alla solidarietà di silenziosi benefattori e alla fondazione della comunità salernitana che di questa iniziativa ne ha fatto un modello.